Musica Bene bentornati in diretta come annunciato ha raggiunto i nostri studi il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni Buonasera sindaco Buonasera a voi Vi ricordo come sempre i numeri di telefono 0721 86 14 33 per intervenire in diretta ma potete inviare un messaggio meglio se su whatsapp al 338 49 68 250 Sindaco ormai la giunta è al lavoro da qualche mese, tanti progetti, lavori in cantiere ma partiamo dal PNRR si parla di 11 milioni e mezzo di euro a che cosa verranno destinati? È una cifra importante Sono cifre importanti, sono state messe a disposizione, speriamo poi di riuscire a intercettarle tutte e quindi è anche giusto usufruirne Vengono messe a disposizione delle scuole in gran parte di un parco che in questo momento riteniamo che venga ristrutturato Viene anche fatto una cosa secondo me molto importante che è un'isola ecologica anche di riciclo, di riuso diciamo Di questi beni molto ingombranti che uno se ne vuole disfare e quindi metterle in queste isole che migliorano quello che è anche un servizio che diamo piuttosto che supportato E' ovvio che queste misure sono messe a disposizione e quindi usufruiamo man mano che ne escono, non è che con questi denari possiamo spendere come vogliamo Ma sono specifici per quello che volta per volta escono fuori e noi cerchiamo di intercettarli Stesso discorso per gli altri fondi che arriveranno dal Ministero dell'Interno, ad esempio anche qui adeguamento sismico e miglioramento energetico della scuola per l'infanzia di Viale Gramsci Ci sono anche delle riqualificazioni, insomma davvero tanto lavoro da fare Sì, noi abbiamo sempre detto che in realtà una delle cose che ci teniamo in assoluto più di tutti è la sicurezza dei nostri figli Il decoro dei nostri plessi scolastici e quindi ovviamente tutte le occasioni che ci si presenta l'opportunità appunto di riuscire a intercettare questi fondi Lo facciamo con estrema dedizione, anzi ringrazio anche chi ha lavorato sabato e domenica per poter arrivare puntuali Visto le scadenze molto molto ristrette per avere accesso a questi fondi Pensate anche di risistemare le strade comunali, ce ne sono diverse ammalorate, so che vi hanno segnalato ad esempio anche la panoramica Piuttosto che San Pietro in Tambis, ecco queste pensa che rientreranno Sì, abbiamo già stanziato una cifra importante nel nostro bilancio per la sistemazione di queste strade Che a me sono ridotte a uno stato veramente deplorevole Però comunque spero che i cittadini riescono a capire che per ordine di priorità ce ne sono tante da fare Cerchiamo di fare quello che in realtà è possibile fare Ma comunque dando poi scadenza a tutto quello, l'enorme lavoro che poi ne deriva dalle scuole Come appena detto alle nostre strade, anche il decoro della città Poi parleremo anche di ospedale perché non solo la sicurezza ma anche la salute è fondamentale E lei ha sempre puntato su questo, le vado a leggere i primi due messaggi che sono arrivati Uno che riguarda un suggerimento, l'altro una segnalazione Le dicono perché non associare lo stesso biglietto di visita alla Corte Alta Anche la visita ad alcune chiese minori chiusa al pubblico Ad esempio Santa Lucia, San Carlo, Santa Maria del Popolo Come fece anni fa il comune di Pergola, perlomeno nei mesi estivi Potrebbe essere insomma una ipotesi interessante L'altro messaggio, è un peccato che il caratteristico sentiero Augusto Radi Che unisce brevemente la Corte Alta alla cittadella e di utilità anche turistica Si è avvolto da rovi, trascurato, disse è stato ormai privo delle distaccate staccionate Rispondo alla prima dicendo che sicuramente non sono perfettamente d'accordo Ma non si tratta di dare un biglietto, si tratta poi che al biglietto vengono corrisposti ai servizi adeguati Quindi in questo caso diamo accesso a una struttura che deve ovviamente essere aperta E pronta ad accogliere Esattamente, quindi sicuramente giusta l'osservazione Ci stiamo lavorando, dobbiamo organizzare anche una squadra che poi tenga aperti tutti questi posti Che sono, grazie a Dio, da un certo punto di vista copiosi in una città come Fossombrone Per quanto riguarda il sentiero fa parte anche questa di un'osservazione molto giusta Ma come il sentiero che è citato lei poco fa Nella stessa maniera sono anche i sentieri delle Cesane Che dovranno essere riqualificati, lasciati in uno stato di degrado in questo momento Però è una delle cose che ci siamo prospettati di fare Ma non è soltanto il sentiero Augusto Radi Ma è anche i sentieri molto belli che sono le Cesane e quant'altro Tema sanità, Sindaco Lei si è incontrato anche con l'assessore regionale Filippo Saltamartini Ha chiesto proprio delle risposte concrete alle criticità Su che cosa punta in particolare? Noi puntiamo a, peraltro come ho sempre detto L'amministrazione comunale è soltanto l'obbligo E la responsabilità di spingere per ottenere al meglio ciò che però in realtà non fa parte Di quello che sono le decisioni che aspettano l'amministrazione Come ben sappiamo Però la responsabilità di cercare di avere un ospedale che sia efficiente Che risponda a quel minimo di servizi che la comunità necessita Credo che sia indispensabile A cosa puntiamo? Puntiamo ovviamente Ci sono già dei lavori che non è per un qualcosa Per mio merito di un allargamento dell'ospice Che è un'eccellenza per tutto il nostro territorio Puntiamo ad avere I 20 posti di lungodegenza I 20 posti di lungodegenza Che sono stati da una delibera fatta nel 2016 Se ben ricordo è rimasta lì immobile Cercheremo eventualmente se c'è la possibilità Ma ci stiamo lavorando per ripristinarli Stiamo ripristinando anche O cercare di ripristinare una parte di un edificio Che sono stati già richiesti 700 mila euro Ci dicono che dovrebbero arrivare a disposizione Di un'ala della struttura Per fare la casa di comunità Quindi Ce ne sono tanti dei servizi che vorremmo richiedere Adesso è importante però Non metterli uno dietro l'altro E cercare di portarli a casa uno dietro l'altro Per ordine di importanza Soprattutto quello che ci tengo in maniera particolare È anche una diagnostica Che abbia in qualche maniera E dia una risposta A chi deve fare un esame O che sia un attacco O una risonanza O quello che è Che senza dover fare decine O addirittura centinaia di chilometri Quindi avere a disposizione questo Sarebbe un grande traguardo Ci stiamo lavorando Io come sempre detto Spero in una sanità Di un territorio che sia efficiente È importante quella di Fossombrone Ma tutto il territorio deve essere efficiente Speriamo E dare supporto Perché tutto questo avvenga Vede una bella risposta Da parte della regione C'è attenzione? Sicuramente c'è attenzione C'è volontà di fare Non ho incontrato soltanto Il dottor Santa Martini Come assessore alla sanità Ma ho incontrato anche L'assessore all'infrastruttura Valdelli Che ha dato sicuramente La sua disponibilità E ha rivolto la sua attenzione A quello che in realtà necessita La struttura vera e propria Abbiamo avuto anche un incontro Con il responsabile dell'area vasta Su dentro il plesso ospedaliero Con un incontro e un dibattito Su quello che è Da una parte anche delle richieste basilari Che il personale Oggi ha evidenziato Al direttore Hanno chiamato il regia Per segnalare Degli alberi da potare Nella zona PEP Hanno fatto già Diverse volte Delle richieste Però ancora Attendono questa potatura E poi Le chiedono anche Prima parlavamo di rifiuti Se ci fosse la possibilità Di far nascere Un centro di raccolta differenziata Come esiste a Calcinelli Ci si può lavorare? Era l'isola che le dicevo prima Che è peraltro una misura Rifiuti speciali A questo punto Ingombranti Più che speciali Ecco La nostra idea è anche Fare proprio una sorta Al di là di questo E mettere a disposizione Anche dei comuni vicino Senza andare per forza a Calcinelli Quindi fare un viaggio Per depositare Volumi ingombranti Che è sicuramente Un disagio Per chi deve affrontarlo Questo quello A San Martino del Piano? San Martino del Piano Zona industriale Stiamo Abbiamo fatto una domanda Importante Peraltro Sempre su un bando Che è uscito fuori Del PNRR Che in realtà È qualcosa di più ambizioso Vorremmo Altresì Che oltre a Raccogliere questi rifiuti speciali Ci sia proprio un riuso Voglio dire Spesse volte Succede che Magari un divano Cambiamo un divano Non sappiamo dove metterlo Piuttosto che distruggerlo Distruggerlo immediatamente Vorremmo lasciarlo lì In modo tale che qualcuno In giorni particolari Possa venire a fare un giro E capire se per caso Può riutilizzarlo Credo che sia L'espressione più bella Dell'ecologia In senso Lato Certo Allora Andiamo avanti con un altro messaggio Plauso Elodia Sindaco per l'ordinanza Tutela del decoro urbano In corso Garebaldi E auspicò Che venga estesa Anche alle circostanti zone Del centro storico Nella zona medievale Perché ce n'è proprio bisogno Un'ordinanza che è ancora in vigore Sì È un'ordinanza fatta Così Per un periodo Che serve Come Come monitoraggio Di come funziona Però L'idea è quella Che come dice Appunto Anche la locandina Niente d'eccezionale Si tratta semplicemente Di avere Rispetto Del posto In cui uno è Come se fosse a casa sua Né più né meno Quindi Se Quello che Ogni cittadino Farebbe a casa sua Sotto il suo Loggiato Sotto il porticato Qualora ne avesse O davanti il portone di casa In qualche maniera Lo stesso comportamento Lo riserva anche In un'area pubblica Dove è di tutti E merita Rispetto di tutti Anche perché poi ci sono Delle attività commerciali Quindi una sorta di decoro Importante Anche per gli esercenti Assolutamente sì Ma soprattutto C'è una concentrazione Di persone Che frequentano Quel posto Quindi Sarebbe giusto Farlo dappertutto Ma in modo particolare In questi posti Dove c'è un'altra concentrazione Un grande afflusso Adesso più pulito Quindi Corso Garebaldi Nota la differenza So che vengono eseguiti Anche controlli su questo Sì Diciamo che questo è Soltanto Così Un messaggio Nel quale E col quale Cercare Di tenere più pulito Il nostro Il nostro paese La nostra Cittadina E cercare di Di rivolgere Quelle piccole attenzioni Che fanno la differenza Passiamo alla cittadella Dello sport Avete già incontrato La provincia Per una palestra e piscina Intanto Quali sono gli sviluppi? Gli sviluppi Sono quelli Che c'è un accordo Già seppur verbale Ma comunque Di fatto Di procedere All'acquisto Della piscina Attualmente Insieme con Lo stesso Plesso Insieme con La palestra È una piscina Che ovviamente Denota Tutti gli anni Che ha E quindi Cercare Con Al momento Che usciranno fuori Come speriamo Dei Delle misure Che Ci possono consentire Economicamente Di affrontare Il tema Di una riqualificazione Di tutto un assetto sportivo In quell'area Che grazie a Dio È molto concentrata Ed è molto Ben Disposta Di dargli Un aspetto Ancora più Più dignitoso Anche a servizio Di tutti i paesi Che sono vicino Di chi potranno Usufruirne Non è soltanto Un qualcosa Che serve a Fossombrone Certo Ma pensa che Nel giro di pochi anni Questo sia possibile Se riusciamo A intercettare I nostri I famosi fondi I nostri I nostri I fondi a disposizione Sicuramente sì Ed è per questo Che dobbiamo Trovarci pronti Anche con delle proprietà Sulle quali poter intervenire Quindi questo è un primo passo A proposito Avete istituito anche Un ufficio Europa Proprio per collaborare Con altri comuni E cercare di intercettare Anche i fondi europei Forse anche quelli Potrebbero essere utili Ad esempio Ci sono Anche dei fondi Che non è soltanto Dovuti al PNRR Però ci sono anche Dei fondi Del Ministero Dell'Interno Che ci sono sempre stati Come la riqualificazione Dei centri Urbani Che in qualche maniera Sono misure Adottate per Per una cittadina Di sopra dei 15.000 Abitanti O Un insieme Di comuni Che attraverso Un accordo Adottano Queste misure Quando si dice Che l'unione Fa la forza Quindi La rigenerazione urbana È una cosa Che È il prossimo passo Con la quale Con la quale Tutti insieme Faremo E riusciremo Speriamo A prendere E intercettare Queste risorse Sono risorse Che noi abbiamo Già definito Dove impegnarle Così definiranno Anche le risorse In proporzione Tutti gli altri comuni Che hanno aderito A questa A questa convenzione Che è in fase Di perfezionamento La convenzione Perché deve essere Adottata dal Consiglio Con la quale Ognuno Ovviamente Disegnerà Un progetto All'interno Del proprio Paese Che sia Sinergico A tutti quanti Insieme Ad esempio Noi stiamo pensando Ancora una definita Alla biblioteca Quale Ovviamente Luogo Importante Che viene messo A disposizione Con tutta la ricchezza Dei libri E dei testi Che ha Riqualificata È un qualcosa Che è a disposizione Di tutti gli altri Cinque o sei comuni O dei comuni Comunque Limitrofi Quindi questo fa parte Di quella Rigenerazione Urbana Che è propedeutica Tra comuni Vicini Ma è L'ufficio Europa È anche un qualcosa Di più importante Perché comunque Mette in sinergia E mette In contatto Le diverse Necessità E confrontarsi Con quelli che sono Le amministrazioni Comuni Vicini Credo che faccia Soltanto bene a tutti Le chiedono Le mura Di via Verziere E via San Rocco Si stanno sbriciolando E sono anche un pericolo Per i passanti Che potrebbero ferirsi Si può fare qualcosa? Che si può fare Sicuramente C'è sempre qualcosa Da fare Speriamo Ovviamente Che quello che facciamo Facciamo bene Io Nel tema specifico Ne ho sentito parlare Dall'assessore Ai lavori pubblici Che però Si interessa lui Ho sentito Ma ha detto anche Che ci sono C'è una necessità Di riqualificarle Queste opere Però ce ne sono Una parte Che appartengono Ai privati Una parte Ovviamente Che appartiene Al pubblico Anche qua Non vorrei Trovare San PNRR Vicino Però comunque Sono tutti interventi Importanti Che ovviamente Dobbiamo fare Speriamo Di farli Con 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 queste risorse Altrimenti È ovvio Che Che le mura Vanno Vanno Ribonificate Questo Questo non c'è E questo non c'è Alcun Dubbio Ha citato poco fa Appunto Chiarabilli Come assessore Lavori pubblici Ma sono state affidate Delle deleghe Anche consiglieri Perché ha fatto Questa scelta E quali deleghe Ha spartito Beh Innanzitutto È una scelta Che ho sempre detto Fin dall'inizio Il fatto di essere In nove Un consiglio Mi sto riferendo Sia ai consiglieri Sindaco compreso Assessori Credo che Sia Doveroso Che tutti Abbiano Un lavoro Un impegno Il fatto che Siano stati eletti Perché Primi Sio Ma anche Tutti i cittadini Hanno Come dire Fiducia Nelle persone Che hanno votato E queste persone Devono prendersi Degli impegni Per il tanto lavoro Che c'è da fare E quindi Tutti insieme Riuscire A lavorare Se è possibile Al meglio Su diversi fronti Pensare che Le deleghe O le responsabilità Siano concentrate Solo In poche persone Credo che sia un atto Da presunzione Che Credo O spero Di non avere Quali deleghe Ha lasciato Ai consiglieri Ma guardi Le deleghe Ai consiglieri Ho lasciato Ad esempio La salvaguardia Dei beni Culturali Questa È una responsabilità Che ho fidato Che non sono proprio Deleghe Perché È un'espressione Sbagliata È sempre il sindaco Che comunque Dà la possibilità Di farsi Di Farsi aiutare No? Dirli in maniera Semplice A Intervenire Monitorare Monitorare In questo caso I beni I beni I beni A sua guardia I beni culturali È la Maria Silvia Nocelli Ad esempio Alla La risposti Ho dato La delega Con tutte le aziende Partecipate Dal Comune Marco Bartoli Proprio anche Per una sua estrazione Essendo anche Un ingegnere Che lavora Su quelle che sono Trattamenti Acqua Eccetera Ovviamente Non poteva esserci Che Una Responsabilità Più idonea Che è La politica Demografica E soprattutto L'ambiente A Cristiano Amadori Che è comunque Un stato Sempre uno Molto vicino Al mondo Dello sport Ovviamente Lo sport E le gestioni Delle Delle strutture Sportive Messaggio per lei Sarebbe interessante Già che siamo confinanti Promuovere anche Delle sinergie Con il comune Di Cogli Al Metauro Che purtroppo Stenta a decollare Situazioni stagnanti Da anni E poi le augurano Anche un buon lavoro Si può fare sinergia Ci sono dei progetti Che potrebbero interessare Entrambi i comuni Ci sono sempre Progetti Che riguardano E siano Che siano Propedeutici Al fine Di Di Aiutarsi No Di Fare migliore Efficienza Su quello che Ma Con Pietro Briganti Ci siamo sentiti Con il sindaco Pietro Briganti Ci sentiamo Non dico quotidianamente Ma come Con tutti gli altri Sindaci In maniera In maniera Frequente Non è solo Cogli Al Metauro Che ha bisogno In questo caso Di Di Sinergie Reciproche Con il comune Di Fossombrone Ma Fossombrone Ovviamente Ha bisogno Anche di tutti Quelli Che sono 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 vicini Quindi Quello che sto Cercando Di fare Ma è anche Un compito Abbastanza facile Perché lo vogliono Tutti E quello di creare Una rete Sulla quale Confluire E far confluire Le problematiche O l'opportunità E cercare Di 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 Metterci A disposizione Reciprocamente Parliamo ad esempio Della via Flaminia C'è stato l'incontro Con gli altri sindaci Proprio a Fossombrone Ecco qua Vediamo la foto Questo è un esempio Proprio di Di sinergia Di collaborazione Sì assolutamente È un'idea Come Come far Promuovere Il nostro territorio Ad un livello Sicuramente Più Con una Visibilità Più ampia Di quello Che è il locale Quindi creare Un percorso Che addirittura Può Nell'immaginario Arrivare anche Fino a Roma Perché la via Flaminia Come ben sapete Arriva a Roma E riuscire a creare Un percorso Così ampio Con una concentrazione Di Di tanta cultura Dove Mi immagino Un Un Turista Anche straniero Prendere la sua macchina E creargli un percorso Non solo virtuale Ma di fatto Quello che è Una full immersion Su una cultura Così Radicata Credo che sia Importante Ovviamente Questa La cultura Non è il nostro merito Eventualmente Noi dobbiamo lavorare Soltanto per Renderla fruibile Renderla Facile Da capire Dargli il supporto Necessario Certo Anche una bella promozione Dal punto di vista Non solo culturale Ma anche paesaggistico E non gastronomico Il nostro territorio Ha veramente tanto da offrire Credo che non siamo secondi a nessuno Esattamente Sindaco ci fermiamo Per qualche istante Di pubblicità E poi torniamo a leggere I vostri messaggi A tra poco Eccoci qua Siamo di nuovo in diretta Un altro messaggio per lei Come intende valorizzare Le marmite dei giganti Beh anche questo Uno spettacolo della natura Sì Noi possiamo solo valorizzarli Eh Beh Francamente Abbiamo già Messo mano su questo Eh La prima cosa Che dobbiamo fare È trovare un'aria Eh Che dia Eh La possibilità A tutti Di poter parcheggiare Con estrema tranquillità Oggi Invece Fino a ieri È stato Eh Una cosa molto Molto caotica Che ha creato Anche il disagio Alle persone che sono Eh Che abitano Lì intorno È un Sicuramente Dobbiamo trovare un percorso Per accederci Con tutta Ma con più sicurezza Stiamo vedendo le barriere A oggi Sul ponte Che sicuramente Vanno rafforzate Vanno In qualche maniera Rese più È un'altra Rese più Più Importanti Che oggi sono Un po' così Eh Ma anche in altezza Diceo proprio come struttura Come struttura È un pizzico Anche in altezza Diciamo così Perché C'è una grande affluenza Quindi al di là Della normativa Bisogna cercare Di Di prevedere Quello che è anche Una Una calca di persone Che si fermano E Ammirano L'altra cosa Dare anche Pensare anche Di dare E creare Delle situazioni In qualche maniera Che possono anche Dare un minimo Di ristoro E un minimo Di accoglienza Alle persone Che vengono In uno spettacolo Che francamente Possiamo soltanto Esserni orgogliosi Nel guardarlo Invece Sindaco Ci sono novità Per il ripristino Della casetta dell'acqua Ormai è ferma Da diversi mesi Sì ne abbiamo parlato Anche su questo Mi trovo Mi trovo aggiornato Perché ne abbiamo parlato Credo settimana scorsa Da diversi mesi Ancora prima che noi Ci sedivamo Dentro Nel comune Era Appaltata A un'azienda Che poi Credo che sia andata In liquidazione O qualcosa del genere Si è stata messa In liquidazione Quindi però Era stata Data Una Come dire Una concessione A questa azienda Alla quale Abbiamo Con la quale Ci siamo Siamo intervenuti Nel cercare Di far recedere A questa Convenzione Stiamo lavorando Su un'altra azienda Che credo Che sia ormai Questione di settimane Ma assolutamente Il nostro Nostro volontario Ripristinarla Quanto prima Ma c'è stato Un problema Burocratico Che era Davuto A queste Addempienze Che dovevamo rispettare Altrimenti Sarebbe stato Saremmo andato incontro A un contenzioso Che ovviamente Cerchiamo di evitare Torniamo a parlare Un attimo Del patrimonio Di Fossombrone Perché ho letto Che nel piano Delle opere pubbliche 2022-2024 Rientrano anche Lo sgambatorio Per i cani Rilacciandoci Appunto Agli amici a quattro zampe Di prima Con l'ordinanza Eccetera La riqualificazione Della fontana Di piazza Mazzini Anche questa richiesta Da tanto tempo E il tetto E la facciata Della quadreria Cesarini E anche qui Insomma Un intervento Forse Che andava fatto Ed era atteso Dalla città Assolutamente sì Parto dall'ultima La quadreria Cesarini E sappiamo Quanto è importante Che valore Storico c'è Dentro Questo museo Questa quadreria E quindi L'opera consiste Nella riqualificazione Del tetto Nel cercare Di dargli Un isolamento Più importante Più adeguato A quello che Merita Una struttura Del genere Poi Lo sgambatoio Sì Era già previsto Zona Mosse E L'altra cos'era? Mi perdoni E la fontana La fontana Sì La fontana Davanti Duomo Sì è bellissima Ma solo valorizzata Non solo ristrutturata Ma anche illuminata In maniera adeguata Perché comunque È una cosa È un simbolo Molto importante Per il vostro brodo L'associazione Marmite dei Giganti Ci dice che Aspetta un incontro Con voi No sono io Che ho chiesto Più volte l'incontro Che per mille ragioni Non c'è stato Quindi ecco Bisogna un attimo Sintonizzare Sono io Esattamente Perché ovviamente Ci sono stati Dei problemi Relativi Anche a Situazioni di salute Non miei Però comunque A prescindere Sono io Che ho cercato E ho caldeggiato Un incontro Perché i tempi stringono E queste cose Vorremmo E dobbiamo farle Prima dell'estate Comunque a prescindere È una cosa Che sarà mia premura Avere quanto prima Questi incontri Una domanda Ci dicono Fatta anche Al suo predecessore Come mai Non si fa Una rotatoria Dove c'è il metano Per fare scorrere Il traffico Ci sono anche Dei problemi Di sicurezza Una rotatoria Una rotatoria Dove c'è il metano Quindi suppongo Il distributore Vediamo se ci dà Un indirizzo Una indicazione Un po' più precisa Probabilmente Sì Ne prendiamo Come suggerimento Come suggerimento Assolutamente Può essere E poi Allora Sindaco Andiamo avanti Con i messaggi Il monte di Petà Che è stato chiuso Dopo 500 anni Di storia Anche lei Gli si era battuto Abbiamo delle foto Chiedo alla regia Di farcele vedere È una storia Un po' complicata Però Una storia complicata E triste Nello stesso tempo È triste Non è solo complicata Diciamo che Questa Il monte di Petà Doveva essere chiuso A novembre Abbiamo fatto pressione In maniera importante Verso Intesa San Paolo Che detiene Ovviamente La gestione Del monte di Petà Del monte di Pegno È stata Ribandata La chiusura Al 4 di Se ricordo bene Al 4 di febbraio Posticipata Cosa che è avvenuta Puntualmente Ci siamo battuti Nel frattempo Credo Che abbiamo raggiunto Un Secondo me Anche un traguardo Importante Lei si immagini Che chiunque Doveva Per poter riscattare I beni che erano dentro Doveva andare a Milano Quindi Ahimè Lei capisce Che sarebbe stata Una cosa molto difficile Per chi doveva riscattare Prendere la macchina Andare a Milano Anche perché qualcuno Aveva Anche degli effetti Degli effetti personali Anche di non estremo valore Quindi Valeva posarsi Viaggio Non lo so Ecco Insieme con l'intesa San Paolo E qui Devo dare E ringraziare Alcuni dirigenti Ci è stato assicurato Che chi vuole riscattare Il bene Basta che va in agenzia Questo è molto importante Va in agenzia Dove c'è a disposizione Per lo meno Minimo fino a giugno Di quest'anno A disposizione Alla stessa signora Che prima gestiva Il monte di impegni La quale si fa Attraverso l'agenzia Può riscattare Senza andare a Milano Il bene Che ha messo in impegno Quindi questo è già Un bel risultato Secondo Stiamo cercando Se c'è qualche istituto Bancario Che possa Sostituire Quello che era Il gestore Che appunto Come dicevo prima Era affidato A intesa San Paolo Ci sono delle possibilità Non lo so Siamo in In trattativa E capire Se c'è la possibilità Di farlo Sindaco Ultimi messaggi per lei Allora Il carnevale storico Vi rispondiamo Tra poco Perché ci sono anche Delle belle notizie Le chiedono In che modo L'amministrazione Intende usare La lottizzazione Situata in Camorgone A Fossombrone Ci scrive un proprietario Di uno di questi lotti Nel corrente O ha bisogno di Oddio Non so dov'è Questa Chiedo scusa L'ottizzazione Situata in Camorgone Magari Chiedo Se mi dà Qualcune Qualche riferimento Poi le facciamo Risapere Chiedo scusa Però So che un sindaco Dovrebbe sapere tutto Però è anche difficile Sapere Sapere anche i dettagli E poi Suggeriscono anche Di fare la pulizia Del parco fluviale A Borgo Sant'Antonio Ci sono le piante Ad alto fusto Che invadono I giardini privati Quindi puoi diventare Ha perfettamente ragione Un problema E l'altro messaggio Eccolo qua Si farà il carnevale storico E ci chiedono anche Se ci saranno delle mostre Insomma delle iniziative Nei prossimi mesi Adesso Un po' la pandemia Il covid sta allentando la morsa E quindi Mano a mano Si riorganizzano Più calentare Speriamo che ci liberi Dalla morsa Più calentare Questa è una speranza Di tutti Il carnevale storico Ho sentito L'associazione La Proloco Che sta andando avanti Sta organizzando Quello che Questa manifestazione Che è molto importante Per Fossombrone Probabilmente una delle manifestazioni Più belle Che coinvolge un po' Tutta la cittadinanza Proprio sentita dagli abitanti E sentita E sentita Ha anche Un valore storico Quindi Assolutamente Se non c'è Niente di Di imprevedibile Se andiamo avanti Su questa strada Assolutamente sì Ho letto 6, 7, 8 maggio Quindi salvo imprevisti Queste sono le date Previste per il carnevale storico Facciamo sempre Gli imprevisti a parte Esatto Esatto La scaramanzia Certo Chiudiamo con questo messaggio Sei il sindaco migliore del mondo E ce lo scrive Benedetta Quindi Un ringraziamento per il lavoro Suppongo che lei sta svolgendo Io ho mia figlia che si chiama Benedetta Spero che non sia mia figlia Che mi fa da forzo No Non saprei Però comunque Un complimento È una pagata È una pagata È una pagata Dice Sempre ben accetto Sindaco grazie per essere tornato Nei nostri studi Ci riaggiorniamo nei prossimi mesi Buon lavoro a lei E a tutta l'amministrazione comunale Salute a tutti i telespettatori Grazie Un saluto anche Alla regia Riccardo Sora E Cristiana Guerra E per voi invece L'appuntamento È per domani mattina Alle 7 con Massimo Foghetti Che leggerà I quotidiani Buona serata Grazie a tutti i nostri spettatori